cari amici del gruppo facebook appoggiando papa francesco vi voglio parlare di un caso che mi ha molto colpito riconosco la mia ignoranza e la faccio nostra quindi voglio che analizziamo questa problematica noi nei libri di storia studiamo della caccia alle streghe della santa inquisizione della grande responsabilità che ha avuto anche la chiesa nell'uccisione di centinaia di migliaia di donne ebbene pensiamo questo come un fenomeno lontano nel tempo purtroppo non lo è ho ritagliato per voi un articolo che mi ha molto colpito di matteo fagotto e le foto che vi mostrerò poi sono di matilde gattoni c'è una regione dell'india la pronuncio così yarkhand si chiama dove continua ancora oggi in maniera molto forte la caccia alle streghe e all'uccisione di donne o alla loro nel migliore dei casi alla loro emarginazione siamo in india e noi io ho segnato alcune frasi ci sono in questa bellissimo in questo bellissimo reportage di matteo fagotto per la rivista jesus dell'agosto del 2013 ci sono delle dei 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 socondi ci sono delle frasi di queste donne che vengono che vengono attaccate come streghe allora una di queste frasi che dice dandovi faccio vedere una di queste donne eccola qui questo è un medico tradizionale del villaggio che è strenua sostenitrice della caccia alle streghe lei dice in una di queste frasi di questa donna che si chiama budnitudu dice non ho più speranze per il futuro l'unico mio pensiero è togliermi la vita quando ero appena nato ho allattato mio nipote come fosse mio figlio oggi quella stessa persona mi accusa di essere una strega ed è la stessa cosa è la cosa più dolorosa a sopportare lei fino a tre anni fa budi aveva quattro figli era una semplice casalinga in uno sperduto villaggio dell'india in un momento tre anni fa un membro della famiglia come succede spesso a queste donne ha contratto una misteriosa famiglia e due nipote di questa donna l'hanno accusata di essere una strega e di aver usato i suoi poteri magici per farlo ammalare hanno convinto l'intero villaggio finché un mese fa il marito e la figlia l'hanno ripudiata e questa donna budni dice in questa sua dichiarazione dice mio figlio è entrato in casa una notte mi ha picchiata selvaggiamente sbattendomi fuori dalla porta molte volte i familiari di queste donne che vengono accusate non difendono le donne per non essere a loro volta esclusi dalla comunità e quindi sono loro stessi quelli che uccidono i propri genitori o nel migliore dei casi li fanno scappare lei dice tornare a birbans che è il paese il villaggio indiano sarebbe impensabile e parenti e compaesani la lincerebbero non ha soldi non ha possibilità di far valere i propri i propri diritti e ha soltanto due scelte o guadagnarsi il perdono cosa rarissima delle persone che l'hanno accusata di stregoneria o vivere come un'esiliata non è una storia isolata ci dice questo giornalista che ha fatto questo bellissimo reportaggio in india ogni anno migliaia di donne vengono accusate di stregoneria e usate come capri espiatori la maggior parte delle volte è per ignoranza per una malattia che succede in una famiglia si o per un evento negativo sotto il profilo economico un raccolto andato male o un affare non concluso si sceglie il capo espiatori la comunità degli uomini più delle volte sceglie una donna su cui scaricare la colpa e la rabbia e questo è soprattutto diffuso tra una comunità di indiani che si chiamano gli adivasi che condano circa 84 milioni di persone noi che siamo in italia pensiamo sarebbe come tutta l'italia più altri 24 milioni di persone in questo caso loro rappresentano l'8 per cento della popolazione indiana secondo flac che è un'organizzazione che fornisce assistenza legale alle donne accusate di stregoneria solo nello stato di yarkand sono state registrate 210 caccia alle streghe negli ultimi due anni queste queste accuse poi comportano delle conseguenze sociali pesantissime vengono assalite da una folla di persone inferocite intenzionate a liberare il villaggio dei loro malvagi poteri picchiate e torturate più delle volte uccise e quelle che vengono che riescono a sopravvivere devono vivere il resto della loro esistenza da emarginate le più fortunate vengono accolte di nuovo dalla famiglia di origine qui ci sono delle foto io vi voglio far vedere di queste donne che devono vivere in questo secolo l'onda dell'accusa di stregoneria così come le donne del medioevo ecco questa bravissima fotografa che ha seguito il giornalista lei si chiama Matilde Gattoni ha fotografato proprio queste donne nel loro essere sole nella loro desolazione e c'è il caso è proprio questa questa qui questa signora con il vestito verde che potete vedere in questa foto questa signora si chiama Mena Mahato ed ha 60 anni è una storia terribile perché 13 anni fa il suo primo genito è morto a causa di una malattia della pelle quando lei stava ancora elaborando il lutto e la sofferenza di aver perso il primo figlio il cognato la accusò di aver provocato la morte del suo stesso figlio e l'intero villaggio mi accusò di chiara Mena Mahato senza che nessuno muovesse un dito in mia difesa e molte volte in questo articolo viene sottolineato come molte volte queste donne vengono accusate di stregoneria perché diciamo si cerca anche di rubare quelle che sono le proprietà delle donne specialmente quando restano vedove vengono accusate di stregoneria per poter poi rubare loro quei pochi metri di terreno che possono avere o quella casetta povera nella quale vivono però c'è una storia di grande amore che vorrei sottolineare Mena Mahato ha avuto una consolazione in questa tragedia e che il marito che si chiama Shiantu Mahato ha deciso di rimanere a fianco ha deciso di vivere la stessa sorte della sua compagna di tutta la vita e lui è un uomo molto timido dice il giornalista che fa questa dichiarazione dice quando mio fratello mi chiese di cacciare mia moglie gli rispose che non poteva chiedermi tutto ma non questo la conosco da così tanto tempo, la amo e non potrei farle del male e la moglie in questa intervista gli dico oggi un sorriso pieno di gratitudine molti mariti invece preferiscono abbandonare le donne al loro destino per piuttosto che affrontare le conseguenze terribili di un'accusa sociale così infamante e secondo la dichiarazione di alcuni avvocati indiani che si occupano di difendere queste donne alcuni figli hanno addirittura ucciso le proprie madri non perché convinti della coppevolezza che erano streghe ma per proteggere il resto della famiglia dall'ostracismo sociale che l'accusa di stregoneria comporta cambia da stato a stato questo giornalista che fa il reportage cambia da stato a stato i caratteri dell'accusa di stregoneria però la daine, la strega generalmente è una donna che tra cui poteri figura la capacità di uccidere o far ammalare le vittime attraverso ingandessimi o spiriti maligni abbiamo poi che cosa succede? come le donne di questa tribù a divasi possono ereditare la terra tramite i loro padri o mariti spesso altri membri della famiglia utilizzano lo strumento giuridico dell'accusa di stregoneria proprio per screditare e impadronirsi delle loro proprietà ora cosa sta succedendo? queste accuse di stregonerie che erano diciamo tradizionalmente confinate nelle zone rurali e più isolate dell'India si stanno spostando nelle città grazie all'emigrazione verso le città delle fasce più povere della popolazione indiana da ricerca di un lavoro è anche favorita dal boom economico indiano e il giornalista ci dice che nel maggio del 2012 Sushila Purti una ragazza di 30 anni residente a Shankosai una barracopoli di Yamshabur è stata quasi strangolata dai suoi vicini di casa che l'accusavano di aver tentato di uccidere il loro figlio attraverso la magia negra c'è poi un avvocato Yasval che dichiara che l'unica possibilità è sempre la cultura l'unica speranza per queste donne perché la soluzione sta nel legalizzare e formare i medici tradizionali questo succede questi medici vivono nel villaggio e i medici tradizionali vivono delle donazioni fatte loro dai compaesani nell'ipotesi che non riescono a curare una malattia hanno bisogno per sopravvivere di un capo espiatorio e quindi scaricano la colpa sulle donne accusandole di stregoneria quindi quello che dice questo avvocato è proprio l'importanza di educare questi medici per evitare poi l'effetto a catena dell'accusa di stregoneria le autorità non rispondono danno scarse risposte a questa tematica e Chutney Mahato che è questa donna questa coraggiosissima donna che vedete in questa bellissima foto anche lei è accusata e cacciata dal suo villaggio nel 1994 costretta a vivere per nove mesi sotto un albero vivendo di elemosine ha creato sdendata totalmente perché è stata presa a botte e a calci fino a frantumarle tutti i dendi lei si è trasferita a Birbans con i figli e si è rifatta una vita e dedica la sua vita proprio alla difesa delle donne accusate di stregoneria mediando tra le famiglie avvertendo la polizia e dice con orgoglio che dal 2000 ad oggi è riuscita a salvare 38 donne più volte è stata minacciata di morte o arrestata addirittura dalla polizia in seguito a false denunce da parte dei suoi detrattori e lei dice sono orgogliosa di ciò che ho fatto finora ma sarò veramente contenta solo il giorno in cui la parola strega verrà abolita dal mio paese combatterò contro questa pratica inumana fino alla fine della mia vita ecco vedete voglio mostrarvi di nuovo Chutney Mahato accusata di stregoneria cacciata dal suo villaggio in India e che si occupa dei diritti delle donne poi nel reportage di questo bravissimo giornalista voglio ricordarvi anche il suo nome Matteo Fagotto c'è un'intervista a un gesuita indiano che insegna etica della comunicazione alla pontificia università gregoriana lui si chiama Prem Ksalksko spero di averlo pronunciato in maniera accettabile e che dice che cosa il giornalista domanda quello di cui parlavamo prima simili episodi avvenuti in Europa e Nordamerica tra Medioevo ed Età Moderna sembrano ripetersi in India perché e dice la somiglianza più evidente è l'ignoranza la mancanza di educazione che spinge le persone a trovare risposte plausibili a eventi altrimenti inspiegabili come epidemie o morte improvvise purtroppo le zone tribali dell'India sono molto arretrate mancano strade strutture educative e sanitarie dice la chiesa ha cercato di combattere queste credenze tramite una fitta rete di parrocchie che si appoggiano a singoli capi villaggio e anche lui dice alla fine che l'accusa di stregoneria è strumentale a impadronirsi dei terreni di un familiare e di un rivale lui fa un parallelo con quello che succede in Pakistan dove le leggi sulla blasfemia sono spesso usate contro i cristiani e gli indù per accaparrarsi le terre e lui dice che il problema non si risolverà fin quando non ci sarà la diffusione di scuole e distruzione quindi spero di avervi mostrato e di avervi incuriosito su questa tematica che al giorno di oggi c'è ancora nel ventunesimo secolo contro le donne la caccia alle streghe un caro saluto e la caccia alle streghe e la caccia alle streghe un caro saluto e la caccia alle streghe